Sì, ho capito, ti ho detto tanto che io finisco a un certo punto, cioè non è che sto sempre... Sì, e per forza se io finisco alle otto almeno una mezz'oretta me lo dai di tempo? Sì, ti ho detto che non c'è nessun problema Sì, certo, va bene, va bene No, non la conosco, tanto c'è un navigatore, non c'è un problema Sì, sì, l'ho messa la via, sì, ho capito qual è Ok